Quale onore aver vinto a queste stanze finalmente. Questo mio nuovo tubo visorio conduce gli oggetti visibili così vicini all'occhio. Questo nuovo strumento visorio potrà essere un grande usilio per i nostri studi scientifici. Non sono conformi a quanto è scritto nelle sacre scritture. E' proprio in queste meraviglie che si manifesta il pensiero divino. E la filosofia non è altro che scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi. Siamo sul punto di assistere al ritorno del prezioso sapere. Principe, noi non dobbiamo desiderare che la natura si accomodi a ciò che parrebbe distinto e perfetto a noi. Ma dobbiamo continuare a sperimentare e cercare liberi da ogni pregiudizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.